Platina, c'era bisogno di una reazione dopo la partita di domenica, è arrivata anche se dopo un primo tempo strano, no? Sì, magari ancora eravamo giù, però alla fine siamo una grande squadra, ci siamo risollevati giocando a pallone e quindi speriamo di andare avanti nel migliore dei modi, faremo di tutto per fare bene. Senti, una partita giocata sul secondo tempo in inferiorità numerica, sotto di un gol, è uscito fuori il carattere, è uscito fuori anche il gioco di questa squadra, no? Sì, la squadra è una squadra di carattere, però magari a volte la testa ti fa brutti scherzi, quindi abbiamo fatto di tutto per reagire e abbiamo vinto.